Ciao e benvenuto a questo secondo video di oggi, qui invece ti parlo di un concetto differente, del come non plagiare, del come non rischiare di copiare qualcuno, una volta ho visto, ho letto un articolo che parlava di segreto ad esempio serie Beatles per non plagiare mai e non copiare mai, era quello di copiare, sempre intercambio dai, sempre utilizzare cose differenti che nessuno utilizza, cioè usare scale maggiori, minori, mischiare ed effettivamente mi sto conto che il trucco, il trucco e il segreto, sta nel fare sempre cose diverse, sempre aggiungere cose differenti, sto pensando allo stile tipo Deep Purple, Judas Space, Black Sabbath, Deep Purple per fare un esempio, è una musica talmente particolare quella che fa Deep Purple, che difficilmente io posso dire, ricordano questi, quest'altri, perché negli insieme effettivamente Deep Purple suonano Deep Purple, ecco tu devi riuscire a fare la stessa cosa, trovare due soledità, due stili, aggiungendo sempre cose diverse, in modo da dire questo è il mio stile, difficilmente assomiglia a qualcun altro, poi come me, con la crazy, miticissima crazy music, si tratta di mettere sempre cose diverse, carne al fuoco, si dice, aggiungere sempre cose diverse, ma allo stesso tempo, veramente, esatto, miscelare tipo idee del tempo sincopato, per dire disco music, la potenza e energia del rock, il ritmo, la potenza del disco music, la voglia di cantare, l'altro culturale, tipo, esatto, cantando lo yodel, cioè miscelare cose, continuamente, differenti talone, in questo modo, difficilmente puoi plagiare, mi ha colpito sempre l'idea che diceva Yanghilla, Yanghilla diceva, effettivamente noi avevamo 20 influenze diverse, in questo modo il nostro genere è unico, perché uniamo 20, 20 tipi di influenze, invece, le band di oggi, molte cosa fanno, hanno solo un'influenza tipo Black Sabbath Deep Purple, e quindi suonano la Black Sabbath Deep Purple, invece una volta avevano 50 tipi di influenze diverse, questa fase mi ha fatto riflettere, che la Crazy Music è un mix di 5 miliardi di suoni, di idee, di stili differenti, quindi veramente, idea è per non plagiare, abbi più idee possibili, e poi di da più gente possibili e mischi al massimo nel tuo stile. Ciao, buonasera video!